L'esperienza di forest bathing è un'esperienza nella lentezza, quindi è l'accesso di essere curiosi, di annusare, annusare un albero, annusare una piantina. Ascolto i suoni che ci sono della natura, di usare il tatto, di toccare quello che vi circonda e se con gli occhi chiusi sposto la testa c'è qualcosa che cambia. C'è anche l'acqua. L'acqua ci si può perdere. Siamo in un bosco da favola sopra Braggio, in Val Calanca. Tutti possono fare il forest bathing. Si usa il senso della vista, si guardano i colori, si guardano tutte le varietà di verde che ci sono. Già solo guardare e cercare tutte le varietà di verde è qualcosa di molto sorprendente. Trovo quello che mi piace di più. Per me il forest bathing è un modo di connettersi con la natura. Sono guida certificata dal Forest Therapy Institute. Ho incontrato il forest bathing che è stato amore a prima vista. C'è una ricchezza di regali che la natura ci può dare.